Buongiorno a tutti lettori, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Alessia, abito in provincia di Bergamo, faccio l'insegnante di lettere e qui su Alibrary parliamo di libri. Oggi parliamo di premio strega, vale a dire del premio letterario più conosciuto e più prestigioso in Italia. Premio che è giunto già nella sua fase finale, infatti lo scorso 7 giugno sono stati annunciati i 5 finalisti selezionati dagli amici della domenica tra una rosa di 12 candidati e il 6 luglio verrà decretato il vincitore. Anche gli anni scorsi sul canale ci siamo occupati di premio strega, addirittura nel 2020 e nel 2021 ho letto e recensito tutti i 12 candidati al premio, mentre l'anno scorso ne avevo selezionati solo alcuni e quest'anno ho fatto la stessa cosa, ho selezionato tra i 12 candidati i titoli che mi interessavano di più e oggi finalmente ho qualche momento libero e sono qui per parlarvene. Non ve li presento tutti insieme ma penso che dividerò il tutto in 2-3 video. Comincerò a parlarvi dei titoli letti che non sono entrati a far parte della cinquina dei finalisti per poi dedicare un ultimo video ai libri letti che invece sono rientrati tra i finalisti. Spero di farcela prima del 6 luglio. Cominciamo subito con il primo romanzo di oggi, vale a dire Tornare dal bosco di Maddalena Vaglio Tanet pubblicato da Marsilio. La storia è ambientata negli anni 70 a Biella e la protagonista è una maestra di scuola elementare, Silvia, che un giorno, una mattina, appena uscita da casa per recarsi a scuola, per recarsi al lavoro, apprende leggendo il giornale che una sua alunna è morta, si è suicidata gettandosi dalla finestra. Silvia, scioccata dalla notizia e schiacciata dal senso di colpa, cade in una sorta di trance, quindi si addentra nei boschi e fa perdere le sue tracce. Cominciano le ricerche che si protraggono per giorni senza però ottenere alcun risultato, la famiglia infatti comincia a tenere il peggio ed è a questo punto che la storia di Silvia si intreccia a quella di un altro personaggio, Martino. Martino è un bambino che si è trasferito sulle montagne a causa di problemi di salute, anche se abbastanza controvoglia, e che un giorno, giocando nei boschi, nei boschi in cui si è rifugiata la maestra, per caso la incontra, per caso scopre il suo nascondiglio. E tra i due si instaura un rapporto di amicizia e di vicinanza. Tornare dal bosco è un romanzo a più voci, quindi la voce narrante si focalizza di volta in volta su ciascuno dei personaggi presenti all'interno della storia. E esplorando, sfogliando i loro ricordi, il lettore arriva a costruirsi un quadro complessivo della situazione, quindi a capire e ad intuire le radici retroscena che si celano dietro agli eventi tragici che si sono verificati. Le tematiche affrontate all'interno di questo romanzo sono molte. Per esempio troviamo il tema del progresso economico-industriale, che ha sempre un doppio volto, perché costringe uomini e donne che sono nati e cresciuti nelle valli a trasferirsi in città, a lavorare come operai, causando però un impoverimento che non è solo economico ma è anche e soprattutto morale e spirituale. In primo piano la condizione della donna che si sta gradualmente emancipando ma che comunque si muove all'interno di una società in cui una donna indipendente, senza figli, non sposata, che vive da sola, desta sospetto. In effetti quando la protagonista, la maestra Silvia, scompare, le persone si lasciano sfuggire che insomma non c'è da meravigliarsi che una donna del genere abbia perso il senno. Del resto è sempre stata una donna strana, vive da sola, non è sposata, non ha figli e quindi in primo piano vi è proprio la condizione della donna. Sono diverse le figure femminili presenti all'interno del romanzo. È presente il tema del bullismo anche e poi il tema della colpa. Come dicevo prima, ciò che spinge la maestra Silvia a rifugiarsi nei boschi è il senso di colpa, l'idea di avere in qualche modo causato il suicidio, la morte di questa sua alunna. Per quanto riguarda invece lo stile, l'autrice si esprime in modo poetico, metaforico. Queste pagine sono ricche di similitudini, ricche di metafore e questo è un aspetto che è stato da diverse persone criticato proprio perché molti considerano appunto la lingua dell'autrice troppo retorica, troppo metaforica. Per quanto mi riguarda invece ho trovato la scrittura dell'autrice apprezzabile. Risulta invece per me un po' costruito l'intreccio, l'incastro tra le storie dei vari personaggi. Tutti i personaggi, le vicende di tutti i personaggi sono tra loro collegate. L'autrice cerca di tessere una rete di rapporti, di relazioni per cui tutti i personaggi sono collegati l'uno all'altro. E questo aspetto secondo me conferisce al romanzo un chiedi forzato, un chiedi costruito. Poi va detto che non amo particolarmente i romanzi che accumulano troppi punti di vista. Cioè la voce narrante si cala nei panni di tutti i personaggi e passa dalla testa, dai pensieri di un personaggio all'altro con estrema facilità, svolazzando di qua e di là senza però approfondire mai veramente la psicologia di nessun personaggio. ma in generale quando l'autore decide di focalizzarsi su troppi personaggi quando ci sono troppi punti di vista, tanti quanti sono i personaggi in effetti in genere è una scelta che non mi fa impazzire. La trovo poco raffinata ecco però ovviamente si tratta di un gusto personale. In generale poi questo è un romanzo che gioca sui classici buoni sentimenti quindi il contatto con la natura, la contrapposizione tra la natura e la città la maestra anziana che si sente sola e che trova l'amicizia che instaura un'amicizia con un bambino, un ragazzino che non va d'accordo con i coetanei, che non riesce ad entrare in sintonia con i coetanei insomma un romanzo che nel complesso è godibile, la storia comunque credibile anche avvincente a suo modo ma di certo non grediamo al capolavoro e in ogni caso non l'avrai visto in cinquina quindi ci sta che non sia arrivato tra i cinque finalisti voto tre, tre e mezzo su cinque per intenderci. Passiamo ora al secondo titolo, al secondo romanzo di oggi vale a dire le perfezioni di Vincenzo Latronico pubblicato da Bonpiani non ero nemmeno così sicura di voler leggere questo romanzo perché mi dava l'idea di essere il classico romanzo che io detesto vale a dire scritto in maniera complicata, pretestuosa ma poi alla fine povero di sostanza, povero di contenuti ne avevo sentito parlare bene da alcuni, male da altri e quindi ero un po' titubante gli ho concesso però una possibilità e sono felicissima di averlo fatto perché è un romanzo molto molto bello le perfezioni racconto meglio, descrive la vita di una giovane coppia che dall'Italia si è trasferita a Berlino che è la città delle grandi opportunità, delle grandi occasioni in cui i sogni si realizzano i due si sono trasferiti lì ed hanno aperto una web agency e conducono una vita apparentemente perfetta infatti hanno un bell'appartamento in centro città arredato con uno stile minimal ma comunque di gusto con tanto di piante ornamentali possono lavorare da casa, infatti lavorando online possono gestire il lavoro e gli orari come preferiscono quindi lavorano da casa con orari flessibili non si fanno mancare le serate con gli amici tutti ovviamente di nazionalità diversa dal momento che Berlino è una città internazionale sono assidui frequentatori delle mostre d'arte e fanno diversi viaggi perché comunque possono lavorare dove vogliono, possono portare il lavoro ovunque vadano quindi la loro vita è apparentemente perfetta ed invidiabile e ovviamente tutto è rigorosamente condiviso sui social ma questa vita è invidiabile, questa perfezione è autentica i due protagonisti sono davvero felici amano davvero, si sentono davvero a proprio agio in questo stile di vita da nomadi digitali oppure si tratta in realtà soltanto di vuoto autocompiacimento il romanzo è privo di dialoghi quindi tutto è raccontato da un punto di vista esterno in realtà poi i due personaggi non sono nemmeno due personaggi veri e propri perché non hanno volto, non hanno voce non hanno un'identità ben definita delle caratteristiche ben definite e anche Berlino potrebbe essere una qualsiasi grande città il narratore infatti descrive più che altro l'atmosfera l'ambiente, lo stile di vita che i due giovani conducono è poi il lettore a colmare i vuoti a riempire gli spazi bianchi lasciati dal narratore perché per un millennial quindi per tutte quelle persone che più o meno hanno la mia età quindi nati negli anni 80-90 è molto facile dare un volto a questi due personaggi e farsi un'idea molto concreta, chiara della vita che conducono perché comunque è lo stile di vita a cui la mia generazione anela sarà capitato a tutti di osservare con invidia le vite apparentemente perfette degli influencer, degli imprenditori, dei nomadi digitali e quindi queste pagine davvero mi hanno scossa mi hanno chiamata in causa in prima persona per questo vi dico che questo romanzo nella sua essenzialità va dritto al punto, coglie davvero nel segno è vero che l'assenza di dialoghi può essere scoraggiante però il romanzo è molto breve e quindi anche in questo senso l'autore è stato molto bravo a dosarsi e quindi io vi invito davvero a leggerlo soprattutto se appartenete alla mia generazione e avete vissuto quelle sensazioni di cui vi parlavo poco fa mi dispiace davvero molto che non sia arrivato in finale magari poi della cinquina dei finalisti parliamo in uno dei prossimi video però visti i titoli che sono arrivati in cinquina è davvero un peccato che la Tronico non si trovi tra quelli a mio avviso ci poteva davvero stare e vi consiglio tanto di leggere questo romanzo veniamo ora all'ultimo titolo di cui vi voglio parlare oggi vale a dire Una minima infelicità esordio letterario dell'autrice Carmen Verde pubblicato da Neripozza in questo romanzo si affronta il tema del rapporto madre figlia infatti al centro vi sono appunto due personaggi femminili la mamma Sofia e la figlia Anna il romanzo è raccontato in prima persona proprio da Anna che all'inizio è una bambina e poi diventa ragazza, adolescente e alla fine adulta la mamma di Anna, Sofia è una donna molto bella, affascinante e soprattutto è assetata, affamata di vita cerca grandi passioni travolgenti cerca l'amore travolgente e infatti ha anche molte relazioni, molti amanti è una donna che vuole sempre di più che desidera sempre di più e di conseguenza è anche sempre infelice perché non ne ha mai abbastanza e questa infelicità questo desiderio di qualcosa in più di avere qualcosa in più è come se fosse scritto nel suo DNA mentre la figlia Anna è tutto l'opposto innanzitutto è piccola è bassissima e minuta e la mamma infatti si vergogna della figlia proprio per questa sua caratteristica e la vive come se fosse una vera e propria deformità inoltre la figlia Anna è piccola anche nella misura in cui non ha grandi aspettative non ha grandi mire non ha grandi progetti per il futuro ma si accontenta di poco l'unico suo desiderio è quello di essere vista e amata dalla madre e tanto più la madre la ignora tanto più la madre si disinteressa a lei tanto più Anna le vuole bene e desidera la sua attenzione e desidera il suo amore tutto si svolge all'interno delle mura domestiche quindi all'interno della casa in cui Anna nasce cresce e poi diventa donna a sottolineare la tendenza da parte di Anna a chiudersi sempre più nel suo nido nel suo piccolo universo e anche a sottolineare quanto il rapporto con la madre per lei fosse esclusivo per lei non esiste altro non ci sono altre relazioni altre amicizie o storie d'amore l'unica sua storia d'amore è quella con la madre l'unica relazione importante per lei è quella con la madre una delle pagine più significative del romanzo secondo me è quella in cui Anna e la madre si misurano misurano la propria altezza appoggiandosi al muro e Anna rimane colpita da come il segno dell'altezza della madre di fatto inglobi il suo è come se Anna si sentisse parte come se si sentisse un pezzo della figura materna senza però avere la stessa completezza la stessa compiutezza la scrittura di Carmen Verde a mio avviso è piana scorrevole ma comunque molto curata e quindi in definitiva molto efficace quindi questa è sicuramente una scrittrice da tenere d'occhio ma diciamo che alla fine il romanzo mi ha lasciato un po' insoddisfatta è come se mancasse un pezzo alla fine è come se mancasse qualcosa è come se mancasse un guizzo una zampata finale che secondo me era necessaria quindi bene ma è come se mancasse un pezzo si poteva andare più in profondità fin qui comunque delle belle letture le note dolenti arriveranno nei prossimi video io per ora mi fermo qui e spero di avervi piacevolmente intrattenuto e ovviamente lasciate un commento se volete dire la vostra a proposito dei titoli di cui ho parlato nel video se anche voi li avete letti se capitate qui oggi per la prima volta e amate leggere amate la letteratura amate sentir parlare di libri cliccate sul pulsante iscriviti attivate la campanella e seguitemi anche sugli altri social trovate il link alle mie pagine qui sotto in descrizione io vi mando come sempre un bacione e un abbraccio e vi do appuntamento alla prossima ciao